E' terminato l'incontro tra la Virtus Castelfrentano e il Miglianico Calcio il risultato finale è 7 a 3 a favore della Virtus Castelfrentano i calciatori si salutano è terminato quasi mezzogiorno 7 a 3 per la Virtus Castelfrentano a posto ok ma buona domenica anche a te grazie di tutto ecco Lola verso il pubbilo bravi ragazzi bravi a tutti bravo Cristiano bravo Luca bravo Michele bravi a tutti Caran bravo Renzetto tripletta bravo ci sono qualcuno si 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 se me lo devi mandare si